Signori e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine usuale, classico e a voi ben conosciuto della mia libreria. Signori, che vedevo di... vabbè, non siamo messi bene e continuiamo per dire a farci del male, ma noi interisti siamo belli così, detta proprio come... comunque sia. Cari signori, allora, recupero per l'ennesima volta questa dispensa di aerei nella storia intitolata Prototipi della regia aeronautica, un'interessante rivista in cui Nico Sgarlato, uno dei maggiori esperti italiani di aviazione, di storia dell'aviazione italiana, ci parla dei prototipi della regia aeronautica, tra cui spicca lo sfortunato e poco conosciuto Imam Ro 58, nella fattispecie si tratta di questo aereo qui, eccolo qua, e questo qua sotto è il classico tre viste. L'Imam Ro 58 era un derivato del noto, del ben noto e ahimè sfortunato Imam Ro 57. Allora, l'Imam Ro 57, il predecessore del 58, era stato progettato nel 1935 dall'ingegner Giovanni Galasso, e fu uno dei diversi aerei da combattimento italiani sviluppati immediatamente prima o durante il conflitto, che pur partendo da uno spunto interessante, perché oggettivamente il Ro 57 era un aereo interessante, non riuscirono a materializzare le aspettative, anche per l'assenza di una precisa vocazione. In pratica, secondo la dottrina valle e poi secondo la dottrina piccolo, si costruivano aerei, si ordinavano aerei senza sapere a che cosa quegli aerei potessero servire. Eh, la storia dell'Imam Ro 57 parla molto chiaro, ed è rimasta famosa, sempre a proposito del Ro 57, la battuta, amara e presumo anche piuttosto arrabbiata, del generale Mario Bernasconi, che scrisse in un appunto, decidere che diavolo rappresenta il Ro 57. al concorso del 1935 per un caccia da combattimento, il progetto fu presentato con una formulazione bimotore. Allora, poi la Imam aderì a questa specifica, a questo concorso del 1935, che fu poi spostato al 1936, aderì con il progetto Ro 53, propulso dagli Isotta Fraschini Asso 11RC40. Allora, sulla carta fu giudicato un progetto interessante, e ne furono ordinati due prototipi, ovvero sia la matricola militare 340 e la 341. L'ordine fu poi cancellato quando nel 1938 l'ingegner Galasconi presentò il più promettente Ro 57, che aveva due motori radiali Gnome e Tron Mars 14, del quale fu ordinato il prototipo con la matricola militare MM407, in sostituzione della 340. Allora, durante lo sviluppo fu deciso di passare ai motori nazionali Fiat A74RC38. Allora, il prototipo volò a Napoli Capodichino. Curiosità, il Ro 57 iniziò a volare dopo l'inutile Imam Ro 51 Idro. Allora, il Ro 57 fu pilotato nei primi mesi del 1939 dal collaudatore Aldo Ligabò, ma non suscitò molto interesse nella regia aeronautica. Le sue ne fu prodotta una piccola serie che non fu praticamente mai usata, non si sapeva per cosa usarlo e quando arrivarono in servizio nel 1943 il brillante bimotore dei primi anni, insomma, della fine degli anni 30 era diventato una macchina inutile e superata. Va bene. L'ingegner Galasso comunque continuò a lavorare a migliorare il suo bimotore, il Ro 57 e nel 1939 ne propose una variante trimotore, il Ro 67, che doveva montare tre Daimler-Benz DB601. La Imam ricevette l'ordine di tre prototipi di tre prototipi, il solito vizio delle tante piccole serie di tanti prototipi nella speranza di azzeccare l'aereo giusto. Valle, Valle, il dirigibilista e il suo collega Prico lo lasciamo perdere. Allora, dicevo, allora, il 7 settembre 1939 la Imam ricevette l'ordine per questi tre prototipi, ovvero sia le matricoli militari 431, 432 e 433. La 431 fu poi assegnata ad una versione bideriva del Ro 57, che non fu realizzata, e infine passò definitivamente al Ro 58, che prevedeva una fusoliera con struttura a guscio, due posti doppia deriva e due soli motori DB601. Eri eccolo qua, eccolo qui. Il Tre Viste è una delle pochissime foto di questo poco conosciuto prototipo. Eccolo qua. E questa è un'altra immagine, sempre a Napoli, Capodichino. Ne esistono molte poche foto perché oggettivamente, praticamente, ne fu costruito un unico prototipo che praticamente rimase lì. Non aveva uno sbocco produttivo questo prototipo di caccia pesante. Praticamente, questo biposto, motorizzato da due DB601, equivalente più o meno del Mercedes-Benz 110, o se vogliamo del Moschito, per dire, dicevo, questo aereo volò dall'aeroporto di Napoli-Capodichino nel maggio 1942, pilotato da uno dei nostri migliori piloti collaudatori di tutti i tempi, ovvero sia il leggendario Adriano Mantelli. Allora, questa macchina presentò diversi problemi, ma anche caratteristiche molto interessanti. Però, 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 come sempre, la regia aeronautica non riuscì a trovargli un indirizzo preciso e non riuscì a trovargli una collocazione in organico. Nell'estate del 1943 si pensò di sperimentare l'unico RO-58 in una missione originale, ovvero sia attaccare dall'alto una formazione di bombardieri nemici mediante bombe con spoletta radiocomandata. Non se ne fece nulla e l'unico RO-58 esistente finì cannibalizzato a Roma-Ciampino per recuperare elementi utili per altri aerei, i motori, le eliti, i contagiri, la componentistica e quant'altro. Insomma, l'ennesima, l'ennesima, l'ennesima occasione sprecata. Un aereo che poteva servire a qualcosa, ma che non si sapeva a cosa potesse servire, che non si capì mai come poter utilizzare come il suo predecessore il RO-57. L'ho già citato prima, ma ripeto le parole del generale Bernasconi. Decidere cosa diavolo ci rappresenta il RO-57. Dopo qualche anno la regia aeronautica pensò la stessa cosa del più moderno, più prestante e persino più promettente RO-58. Eccolo qui di nuovo. La foto e il tre viste. Un aereo dall'aspetto moderno, un aereo dall'aspetto filante, un aereo che a sentire i collaudatori, nonostante i problemi dovuti a una certa instabilità, dovuti a una certa pesantezza ai comandi, era comunque sia un aereo molto promettente che aveva delle caratteristiche interessanti. Se ci fosse stato il tempo, la capacità economica, la capacità imprenditoriale e la volontà di migliorarlo, non era niente che non si potesse superare. Con collaudi, arrangiamenti, sistemazione eccetera eccetera, i difetti del RO-58 si potevano superare e ne potevamo ottenere un buon caccia pesante. Ma ahimè, non fu possibile. Era un aereo, ripeto, interessante, aveva una velocità massima di 605 km orari a 5000 metri, saliva in 6 minuti a 6000 metri, aveva un raggio d'azione di circa 670 km con una autonomia di 1500 km. Era armato con quattro mitragliatrici da 12 e sette, oppure con due cannoni da 20 mm e due o tre mitragliatrici da 12 e sette con 980 kg di bombe. Insomma, non sapevamo come usarlo, non sapevamo cosa farne, non riuscivamo a capire a che cosa potesse servire. Insomma, mettiamola così, non è una politica industriale costruttiva propriamente sensata quando si tratta di combattere una guerra mondiale, siamo sinceri, non è che ci fosse molto da fare. Ripeto, l'aereo era sicuramente interessante, l'aereo poteva essere sviluppato e diventare un buon caccia pesante, ma ahimè, ahimè, come sempre, quando si vuole far nozze con i fichi secchi, i risultati sono questi. Non si sa che cosa fare di un aereo che altrimenti poteva essere interessante e promettente. Tutto qua. Quindi, cari signori, questa è più o meno la breve, triste e malinconica storia del caccia bimotore Imam Ro 58. Poteva essere, non è stato. Come tanti altri aerei italiani, occasioni perse a gogo. Quindi, come sempre, ripeto, aspetto le vostre considerazioni, aspetto i vostri commenti, fatemi sentire, fatemi sapere. Di nuovo, arrivederci al mio prossimo video e soprattutto, cari miei, ciao!